musica 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 povera jesse zona x saliamo ancora? saliamo ancora spus huge musica musica man musica Io non ho finito con voi! Ti senti? Vedi che ci sono arrivati in qui e fare lo che vuoi? E noi stiamo tagliando? Farron! Chieva! Poi prendere l'acqua, ora! Choppersi a te fai! Voi vivere e fredda? damn right leading man sticks around though we gotta keep moving if we want to make it that far you ready yep Time for a rematch, huh? Rude! You. It's nothing personal, bitch! Eh, vabbè, poi? Non c'è combattimento. Plate separation authorized. Awaiting confirmation. Plate separation authorized. Awaiting confirmation. Yeah, yeah, coming right up. No you don't! Not when I'm working! Plate separation authorized. Awaiting confirmation. Press it. Now, now. You ain't got shit on us. Ok. Quanto danno fa? Cazzo! Un po'. Fa un po' di danno. Fermi tutti. Questi sono i pulmini, quindi... Eh, infatti. Ti fa un save un cazzo. Però lui... Però lui... Con i Nira. Vero? Cacchio, io c'ho Barret, porca c'è la miseria, ma Barret non ha materi, guardate. Non ha niente. Non ha niente. Tirito di squadra, che... Bu... Che miseria. No! L'hai lisciato! E' molto deficiente! E' molto deficiente! Però lui fa il critico con le sue armi. Ok. Mi sarebbe... Piaciuto. E' over. E a quanto pare questo gameplay non riesco a registrarlo. Vabbè. Allora, Barret, magie, nessuno c'ha... Sì, ce l'ha Barret le abilità. Però lui non può curare niente. E' nessuno. Facciamo una mega pozione. La facciamo su di lui. Seconda fase. Seconda fase. E questa era la prima, la seconda com'è? E' contro un elicottero. E' come pensi di farlo? E' come pensi di farlo. Perchè Tifa non è stata curata? Tifa perchè non sei curata? Scusami eh Puoi curare per favore? Nooo! Non può curarsi! Scusami Cloud, che cavolo devo farci? Tifa ti prego Anche l'abilità al limite Sono una mega fenice, no? Un classico Riusciamo a curarci per favore? Ti prego curati! Mamma mia Ok abbiamo l'invocazione caricata E io mi sa che invoco Ifrit ragazzi Mi sa che vado ad invocare Ifrit C'è Aspetta due contro due Aspetta però Merda è Tifa che ce l'ha Allora Ettere Hai fatto l'ettere? No Non hai fatto un cazzo Brava Ah no Ops Insomma è lì sirva Niente Eh dammelo un secco Ma ci mettono tre anni a castare sti Ok sono tornato qua E questa volta ragazzi Barretta le materie Quindi sto cacchio Magie Oh Dio Stia Le materie però non hai PM Va bene Però lui si Stavolta si E sto cacchio Facciamo un critico Non è comparso l'abilità di vocazione stavolta Rinascita non serve Facciamo un energira a Barret stavolta Perché lo vedo abbastanza tosto Cambiamo personaggio Picchiamo sto reno Cambiamo personaggio Perché sta picchiando quello Aia Togli Tifa perché gli serve l'abilità Qua Mettiamo magie E facciamo Ehm Facciamo energia su Tifa Perché è quella più importante Adesso facciamo Con Barret Un ultimo Cannonata Da panico Vediamo Cloud E con lei Facciamo l'invocazione Di Ifrit Come ve l'ho detto prima Se mi sentiva l'abilità limite di Cloud Mi farebbe anche un favore Quindi adesso noi useremo solo Cloud Non c'è Cloud Ok Vai esplosione fiammante Vai su reno per favore Ehm Mi serve la cura per favore Ma lui non ha più PM No Tifa sì invece Energia su di Cloud Dai che mi serve l'abilità limite con Cloud Per favore Ma perché non viene curato Cloud Allora Ti fa Ti fa sto cacchio Pippa Abilità limite Salto mortale no Magie Rinascita no Bene perfetto Oggetti Coda di Fenice Cloud Grazie Poi Abilità limite Aspetta un attimo che mi avvicino Abilità limite Salto mortale Oh Me lo fai su salto mortale prima di creparci? No ci crepi e basta Brava Ce ne va Ce ne va Ifrit Salva Ci salva Che ci si fa? Si prende il comando di attivazione Che sto cazzo Da how do we stop it Who knows Where you going? Move Getting real tired of your shit Perchè lo proteggono? Non era difficile? You son of a bitch! What have you done? My son of a bitch! I am so sorry! 5 minutes ago! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! What do you do? Nothing! Nothing! There is nothing you can do now! You can't do this! Eva! I found Marlene! Aerith! Marlene! My Marlene! What did you do with her? Where are you? Aneta! Sir, Eva! Your activities unwittingly brought you into contact with the ancient, who is now back in our custody where she belongs. For this, you have my sincere gratitude. Alas! The sector in which you stand has been condemned. Ancient? Run! You have to go now! And where exactly do you expect them to go? Aerith! What? A poli-plate separation imminent. Che faccio? Andi ho spacciato tutto il partietto, tutto il settore è finito. No. Oh! Grazie a tutti Grazie a tutti Non ci sono parole Non ci sono parole ragazzi E quello che è successo è Terribile Non si può spiegare Allora io probabilmente Ragazzi questo video ve l'avrò diviso in due parti Perché La registrazione mi rendo conto che È abbastanza lunga Però Dio non ho parole Vi saluto adesso anche se magari Nell'ultimo episodio non vi ho salutato Vedrò in editing dove tagliare ma Non so se Prima del combattimento finale Oppure no Vedrò ragazzi cosa riesco a fare E andremo avanti Con la nostra avventura con Final Fantasy E ripartiremo da qui Non so che fine ha fatto Barrett Ci siamo ritrovati qua con Tifa E Questa è la mappa Siamo a Parco Smerald Il settore è finito Sono tutti morti Niente Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ciao Ciao